Una donna di 59 anni originaria di Santa Maria di Licodia è stata arrestata dalla polizia ad Adrano per droga, deteneva 15 dosi di cocaina. Si avvicinano le amministrative di primavera. A Santa Maria di Licodia gli aspiranti primo cittadino sarebbero quattro, Trischitta, Gurgone, Butto e Caruso. L'illuminazione del castello normanno continua a far discutere a Paternò, giunta nelle scorse ore al comune una nota in autotutela di sospensione della soprintendenza per i beni culturali. Deserta l'asta pubblica indetta dalla città metropolitana di Catania a circa due mesi dalla precedente per la vendita dell'ex albergo Sicilia di Paternò. L'ANAS ha dato il via libera all'iter burocratico per gli espropri finalizzati al raddoppio della statale 284 nel tratto Paternò-Adrano. Continua il botte risposta tra l'assessore regionale Messina e il sindaco di Paternò Nino Naso sul Giro d'Italia. Ieri all'Ars il deputato compagnone ha presentato una mozione di censura contro Messina. Il nuovo progetto chiamato Sportelli del consumatore, iniziato il 7 marzo scorso, è entrato nel vivo. L'iniziativa ha l'obiettivo di attivare una rete di quattro sportelli, uno di questi a Paternò. Al primo circolo, Sante Giuffrida di Adrano, l'iniziativa alla scoperta del magico mondo delle api. A promuoverlo, il Rotary Club Paternò Alto Simeto. Il presidente del presidio partecipativo del patto di fiume Simeto, David Mascali, ospite della prima puntata del Fatto su Ciak Telesud, si parla della mappatura di comunità 2.0. Buonasera da Ciak News e bentrovati a questa edizione delle 20 del nostro telegiornale. Ad Adrano la polizia ha arrestato una licodiese di 59 anni per spaccio di cocaina. Nell'abitazione della donna, gli agenti del locale commissariato hanno rinvenuto 15 dosi della sostanza stupefacente. Sentiamo. Nella giornata di ieri la polizia di Adrano ha arrestato una donna di 59 anni, originaria di Santa Maria di Licodia, gravemente indiziata del reato di detenzione e fili di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Da qualche tempo la persona arrestata aveva iniziato una fiorente attività di vendita di cocaina ad Adrano. Pertanto gli agenti si sono appostati nei pressi della sua abitazione per osservarne i movimenti e cogliere l'occasione propizia all'intervento. Il viavai continuo di abituali assuntori di stupefacenti conosciuti dagli investigatori e positivamente controllati poco oltre il punto di rifornimento ha indotto i poliziotti a entrare in azione e rompere nell'appartamento. Fingendosi acquirente, uno dei poliziotti ha bussato alla porta della donna, la quale non ha esitato ad aprirgli, a chiedergli quante dosi desiderasse comunicando contestualmente il prezzo per ciascuna dose, ovvero 40 euro. A quel punto la gente ha bloccato la donna ed è entrato nell'appartamento, seguito dagli altri poliziotti che nel frattempo erano rimasti nascosti a poca distanza. La perquisizione della casa ha permesso di rinvenire 15 dosi di cocaina confezionate in cellophane trasparente, in gergo i cosiddetti pippotti pronte per essere immesse sul mercato. Sono stati rinvenuti anche il bilancino di precisione utilizzato per pesare le singole dosi e la somma di 170 euro, suddivisa in banconote dai 50, 20 e 10 euro, verosimilmente provento dell'attività di spaccio realizzata sino a quel momento. Il tutto è stato posto sotto sequestro dalla polizia. La donna è stata condotta presso gli uffici del commissariato in via della regione in stato d'arresto. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stata posta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del giudizio direttissimo. Pochi giorni ancora e conosceremo la data delle elezioni amministrative in Sicilia di primavera. A Santa Maria di Licodia si profila una corsa alla sindacatura con protagonisti, quattro politici, tutti con esperienza pregressa. Ma sentiamo chi sono. A Santa Maria di Licodia nella corsa alla sindacatura si profila una corsa a quattro. Il borsino a pochi giorni dall'ufficialità della data delle elezioni amministrative di primavera dà ai blocchi di partenza un poker di politici, tutti con esperienza all'interno del palazzo comunale licodiese. Tuttavia l'unico ad aver lanciato ufficialmente la sua candidatura è l'avvocato Giovanni Trischitta, già presidente del Consiglio Comunale ai tempi della sindacatura di Francesco Petralia ed uscito dallo scenario nell'ultimo decennio. Dovrebbe essere della partita, ma non ha ancora ufficializzato la candidatura. L'attuale assessore comunale Gabriele Gurgone, presidente del Consiglio Comunale nella precedente consigliatura, che si pone in continuità con la sindacatura Mastroianni all'epilogo dopo dieci anni di guida, l'unico ad aver centrato la riconferma dopo il primo mandato da quando vige l'elezione diretta del sindaco. Non ha ancora sciolto la riserva, ma dovrebbe esserci anche lui, l'ex assessore ai tempi della sindacatura RASA, Enrico Caruso, che dovrebbe ufficializzare in questi giorni, anche egli da qualche anno uscito dalla scena politica e che prepara il gran rientro. Infine, il quarto aspirante primo cittadino dovrebbe essere l'attuale presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Butto, in attesa del via libera dal gruppo degli ex di Mastroianni, che oltre a lui include Mirella Rizzo, già vicesindaco, e Giuseppe Nicolosi, consigliere comunale. Ponte sul simeto in stato di degrado. Per questa ragione è stato chiuso al transito, su ordinanza dell'ufficio tecnico della città metropolitana di Catania, il tratto interessato della strada provinciale 69 seconda in zona Passo Martino a Catania, con decorrenza immediata. In precedenza, proprio per le condizioni non ottimali della struttura, era stata disposta l'interdizione al transito dei mezzi, con massa superiore a 3,5 tonnellate. Continua a far discutere e si riempie di nuovi dettagli la vicenda relativa al progetto di illuminazione dall'alto del Castello Normanno di Paternò. Il Comune ha ricevuto nelle scorse ore una nota in autotutela di sospensione da parte della soprintendenza, ma anche un'interrogazione consigliare. L'illuminazione della discordia avrebbe dovuto valorizzare il Castello Normanno di Paternò, e invece il progetto di illuminazione rischia di creare uno scontro tra la soprintendenza per i beni culturali di Catania e il Comune. Nelle scorse ore i tecnici hanno rimosso le aste di supporto dei LED installate nei giorni precedenti e che avevano tanto fatto discutere, mentre il Comune ha ricevuto da parte della soprintendenza una nota in autotutela di sospensione della precedente autorizzazione, nota che seppure richiesta non c'è stato possibile leggere in quanto giustificata come documentazione interna. Per capire cosa sta succedendo e se il progetto di illuminazione del Castello Normanno verrà così realizzato o subirà dei cambiamenti, abbiamo sentito l'assessore ai lavori pubblici Luigi Gulisano. La messa in opera dei corpi illuminanti attorno al Castello Normanno è stata effettuata, ci ha spiegato Gulisano, solo a seguito dell'approvazione da parte della soprintendenza etnea del progetto, che prevede questo tipo di illuminazione dall'alto. Effettuata una prima prova, le aste sono poi state smontate per procedere alla loro verniciatura. Il colore da progetto deve essere il medesimo della copertura del dongione e le aste non devono avere sporgenza superiore ai 50 centimetri. La soprintendenza però ha inviato una nota al Comune di Paternò attraverso la quale avrebbe sospeso la precedente autorizzazione perché, secondo quanto ci ha riferito l'assessore Gulisano, il Castello Normanno potrebbe essere illuminato con fari dal basso, un dietrofront che il Comune non intende accettare, sia perché il progetto è stato redatto in collaborazione con la soprintendenza, che ha poi dato la propria autorizzazione a procedere, sia perché è ottenuta tale autorizzazione. Il Comune si è mosso e ha sostenuto delle spese per la realizzazione dello stesso. La motivazione alla base della nota di sospensione sarà al centro di un incontro che dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni tra le parti. In attesa del confronto, il Comune non intende fermarsi, al contrario, procederà con i lavori. L'installazione dei corpi illuminanti è anche al centro di un'interrogazione consigliare effettuata dai consiglieri comunali Agata Marzola e Alfredo Sciacca, attraverso la quale si chiede di conoscere le scelte che hanno indotto l'amministrazione a operare tale intervento. Senza valutare opzioni che si legge, non prevedano il deturpamento della struttura e le relative autorizzazioni. Illuminazione dall'alto o dal basso? Questo dubbio amletico giungerà a soluzione? E' andata ancora una volta deserta l'asta pubblica indetta dalla città metropolitana di Catania per vendere l'ex albergo Sicilia di Paternò e sono trascorsi già due mesi dalla precedente. Sentiamo. Di nuovo deserta l'asta pubblica, la seconda indetta dalla città metropolitana di Catania circa due mesi dalla precedente. Era il 25 gennaio del 2022 per la vendita dell'ex albergo Sicilia di Paternò. La struttura di via Vittorio Emanuele, abbandonata da tempo in condizioni fatiscenti, occupata a più riprese e poi sgomberata, non ha fatto gol a nessun acquirente. La base d'asta era fissata in 504 mila euro. Il termine ultimo fissato per la presentazione di proposte di acquisto era il 14 marzo scorso, ovvero lunedì, al momento della verifica delle offerte pervenute è stato constatato il nulla di fatto. E adesso, dal 10 gennaio, data della conferenza tenutasi a Paternò, alla presenza tra gli altri di Salvo Pogliese, per l'occasione in rappresentanza della città metropolitana, ad oggi solo buoni propositi e nessun risultato concreto. Una vicenda che si trascina avanti da anni, tentativi su tentativi di vendita, tutti sfumati. Si è discusso molto su quelle iniziative portare avanti per raggiungere l'obiettivo di riqualificare l'immobile, che potrebbe tornare ad essere una struttura ricettiva di prim'ordine per Paternò. L'ultima proposta è arrivata dall'architetto Francesco Finocchiaro, che ha lanciato metaforicamente un guanto di sfida all'ente città metropolitana, proponendo di investire da proprietaria della struttura, anche tramite le risorse economiche europee, ospitando nei locali attualmente abbandonati l'istituto alberghiero. Questo permetterebbe ai ragazzi di studiare e lavorare in albergo, non perdendo la destinazione d'uso dell'immobile, trovando anche una sede alternativa, con tutte le attrezzature a disposizione, per abbinare la preparazione scolastica all'inserimento nel mondo del lavoro. Una cosa è certa, è necessario favorire una buona conclusione del calvario di quello che per la cittadina di Paternò sta diventando nel tempo un ecomostro, una residuale testimonianza tangibile di una perla del passato, un obbligo a cui nessuno nell'ambito della politica locale al di là delle responsabilità dirette può sottrarsi. Il circolo del Partito Democratico di Paternò ha organizzato per domenica prossima, 20 marzo dalle 9.30 alle 12.30, nella sede di Via Baratta 189 a Paternò, un punto di raccolta di genere di prima necessità per la popolazione dell'Ucraina. concordati con la comunità di Sant'Egidio, generi per l'infanzia, pannolini, salviettine imbevute, gel igienizzanti, maschirine chirurgiche, FFP2, materiale per medicazione, bende, ovatta, garza, disinfettante, cerotti, antidolorifici, antibiotici e medicinali. La raccolta è promossa dal Partito Democratico e della comunità di Sant'Egidio, si legge in una nota stampa, ma chiaramente non ha una connotazione politica e si rivolge a tutti i cittadini di Paternò che stanno vivendo le angoscianti notizie sulla tragica realtà della guerra in corso e sulle atroci sofferenze per civili e bambini. L'ANAS ha dato il via libero all'iter burocratico per gli espropri finalizzati al raddoppio della strada statale 284 nel tratto fra Paternò e Adrano. Un nuovo atto del lungo itere burocratico per arrivare al raddoppio della statale 284, la Paternò Adrano, è stato compiuto. L'ANAS ha approvato il piano per l'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio del primo lotto lungo i 15 chilometri della statale che verrà dotata di due corsie per senso di marcia. Quattro i comuni interessati, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia e Paternò. I dettagli dell'intervento, completo di particelle da espropriare, appaiono in un documento dell'ANAS a firma del commissario straordinario Raffaele Celia. Un intervento atteso da tempo per la sua doppia finalità. Si potenzia la sicurezza e la percorribilità dell'arteria stradale transitata quotidianamente da decine di migliaia di veicoli. Sull'argomento è intervenuto il comitato pro raddoppio statale 284 che in una nota evidenzia prendiamo atto come comitato civico su quanto pubblicato nell'albo pretorio del comune di Santa Maria di Licodia nel quale è possibile dedurre tutte le particelle relative alle fasi di esproprio e che solo fortuitamente ne prendiamo visione grazie alla partecipazione attiva di alcuni cittadini partecipanti al comitato che ci hanno immediatamente informati sullo stato di avanzamento dei processi burocratici della raddoppio. Intanto per ridurre la pericolosità dell'arteria stradale seguendo le direttive dell'allora prefetto di Catania Claudio San Martino i comuni di Biancavilla e Paternò hanno installato lungo il tratto della statale 284 di loro competenza gli autovelox, una soluzione che ha dato i suoi frutti visto che il numero degli incidenti spesso determinati dall'alta velocità o da sorpassi azzardati si sono ridotti sensibilmente. Continua il botte risposta a distanza fra l'assessore regionale turismo sport e spettacolo Maglio Messina e il sindaco di Paternò Nino Naso e ieri a Lars si è registrato l'intervento del deputato compagnone che ha presentato una mozione di censura contro Messina che è stata firmata dai deputati compagnone lo stesso che l'ha presentata di Mauro e Lentini sentiamo. Non accenna a placarsi la vicenda che vede contrapposti l'assessore regionale allo sport turismo e spettacolo Maglio Messina e il sindaco di Paternò Nino Naso una cherella nata dopo le dichiarazioni del primo cittadino paternese sul Giro d'Italia Paternò anche in questa edizione targata 2022. Un post che ha scatenato la critica dell'assessore Messina soprattutto in riferimento al lavoro che il sindaco Naso avrebbe compiuto per arrivare a questo obiettivo dichiarazioni bollate come bugie dall'assessore Messina. I toni della questione si sono inaspriti poi nel pomeriggio di ieri con la presentazione di una mozione di censura contro l'assessore Messina a firma e dei deputati autonomisti compagnone di Mauro e Lentini. Una mozione letta in aula proprio dal primo firmatario compagnone. Le parole spesso l'assessore Messina li butta senza pensarci. Gli escono da sole. Questo non è accettabile. Non è accettabile. Io credo che il Presidente Musumeci lo debba redaguire pesantemente. Credo che se lui ha questa mentalità, credo che è bene che si dimetta, visto che lui ritiene di essere rappresentante di se stesso, del suo mondo, solo del suo partito. Lui è assessore della regione siciliana di tutti, quindi anche del sindaco Naso, quindi anche del deputato compagnone, quindi anche del deputato Mariana Caroni e così via di sé. Non può avere quest'idea di essere a rappresentare di se stesso e si ingazza se è un sindaco e è contento del fatto che passa il giro d'Italia dalla sua città. Tutto questo non è accettabile. Determina un clima che è sbagliato, che non funziona, che poi la conseguenza è tutto quello che ne deriva, degli atteggiamenti anche nelle aule, né territori. Credo che queste cose vadano puntualizzate, perché poi veramente non ci si capisce più. Si chiama Sportelli del Consumatore ed è un progetto iniziato il 7 marzo scorso e che adesso è entrato nel vivo. L'iniziativa ha come obiettivo quello di attivare una rete di quattro sportelli, uno dei quali appaternò il servizio. Il nuovo progetto di Feder Consumatori di Sicilia, ACU, AIACE, UGC, chiamato Sportelli del Consumatore, finanziato dalla regione siciliana con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, iniziato il 7 marzo scorso, è entrato nel vivo. L'iniziativa ha l'obiettivo di attivare una rete di quattro sportelli ubicati a Paternò, in piazza Vittorio Veneto 6, aperto lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 9 alle 12, dalle ore 16.30 alle 19.30, a Palermo, Niscemi e nella provincia di Enna per offrire assistenza qualificata e gratuita ai consumatori utenti. Il cittadino potrà rivolgersi per avere informazioni e supporto in merito a tutte le questioni che attengono all'esercizio dei suoi diritti previsti dalla legislazione regionale e nazionale ed europea a tutela del consumatore utente. Tutti gli sportelli garantiranno ai consumatori per la durata di 18 mesi un servizio settimanale della durata minima di 18 ore distribuite in tre giorni. L'assistenza sarà offerta sia in presenza presso gli sportelli fisici sia a distanza. Prevista la realizzazione e la distribuzione di materiali divulgativi e questionari, saranno organizzati eventi pubblici in presenza o a distanza sui diritti dei consumatori. Dopo la crisi economica dovuta al Covid, spiega il presidente di Feder Consumatori Alfio Larosa, adesso scoppia la guerra in Ucraina. Oltre alle drammatiche conseguenze sul popolo ucraino, il conflitto causerà disagi economici in tutta l'Europa. Per questo il progetto è oggi ancora più importante. I cittadini avranno bisogno di informazioni corrette e di assistenza per barcamenarsi in una situazione sempre più complessa. Trasferiamoci adesso ad Adrano. Conosciamo il magico mondo delle api e questo è il tema dell'incontro che si è svolto questa mattina nell'auditorium del primo circolo didattico Sante Giuffrida di Adrano su iniziativa del Rotary Club Paternò Alto 6 metri. In merito abbiamo un servizio. Interessante incontro questa mattina nell'auditorium del primo circolo didattico Sante Giuffrida di Adrano promosso dal Rotary Club Paternò Alto Simeto. In primo piano l'affascinante mondo delle api e l'importanza della loro presenza. Hanno relazionato sul tema la presidente del Rotary Club Piera Tomasello, Mattia Branciforti, presidente della commissione SOS Api, l'apicoltore Adanite Giuseppe Caruso, l'assessore comunale Marica Terenova e la preside Loredana Lorena. Ai presenti all'incontro conosciamo il magico mondo delle api, è stato consegnato un attestato di partecipazione. Le api purtroppo stanno diminuendo. Diceva il signor Caruso ogni dieci api che escono ne tornano tre, sette si perdono e come tutti sappiamo l'ape è fondamentale per la vita dell'uomo. Senza l'ape noi non potremmo vivere. Diceva, non so se l'ha detto lui, ma lui viene detto che lo abbia pensato Einstein, ha detto che se muore l'ape scompare l'ape, in quattro anni scompare l'uomo. Non so se sia vero, però l'ha detto Einstein, non mi permetto di... Quindi noi ci stiamo interessando di questa problematica delle api, proprio per insegnare alle giovani generazioni l'importanza che ha l'ambiente nella vita dell'uomo. Il distretto 2110 con governatore Gaetano De Bernardis quest'anno ha deciso di portare avanti il progetto SOSAP insieme e in partnership con la Free B che è un'azienda e-tech. Abbiamo fatto 283 adozioni in tutto il distretto, abbiamo consegnato ai club una tonnellata e mezza di miele, abbiamo distribuito dei volumetti che sono stati forniti alla Free B ma sono stati realizzati dal distretto attraverso la lusso grafica di Caltanissetta e quindi facciamo sia un'operazione di sensibilizzazione nelle scuole o anche in altri posti attraverso degli incontri come questo e abbiamo anche aiutato le api attraverso le nostre adozioni. Assessore, la scuola che diventa ancora il fulcro di iniziative importanti di natura ambientale. Sì, sono ovviamente molto felice perché appunto anche sulla scia del progetto Amazzonia che si concluderà venerdì con il collegamento con tutti gli altri istituti superiori e ritornare a distanza di pochi giorni in questa scuola per parlare ancora di ambiente grazie a Piera Tomaselli ma grazie alla sensibilità della nostra preside Loredana Lorena e di tutte le insegnanti che collaborano a questo progetto devo dire una cosa per me stupenda perché vedo i bambini sono molto interessati sia che si parli di api o che si parli di foresta dell'Amazzonia e tanti altri progetti seguiranno ancora perché io ritengo che le istituzioni debbono dare una forte presenza, una sensazione della presenza delle istituzioni all'interno delle scuole proprio perché i bambini così imparino anche a rispettarle e a comprendere che chi ricopre le cariche di sindaco, di assessori svolge un nobile lavoro non quello a cui ci hanno abituato purtroppo le cronache giudiziarie il nobile lavoro è quello proprio di occuparsi innanzitutto dei ragazzi delle scuole perché da loro dipende il futuro della nostra città e del mondo. La nostra scuola è molto sensibile a quelli che sono i temi della salvaguardia dell'ambiente infatti abbiamo già aderito ad altri progetti nel corso degli anni è proprio di una settimana fa anche l'adesione al progetto di gemellaggio con l'Amazzonia promosso sempre dall'assessore alla pubblica istruzione la dottoressa Terranova. Questo che riguarda le api è la prima volta invece che lo affrontiamo come come tema in una maniera così importante e siamo stati ben felici appunto di dare voce all'apicoltore, al Rotary Club appunto per attenzionare quello che è un tema così importante che ci porta ad avere attenzione a questo mondo particolare, speciale e importante che è quello delle api appunto. Dall'umanesimo al postmoderno filosofia, storie e vita, cambiamenti epocali e scenari internazionali è questo il tema di un incontro che si terrà giovedì 17 marzo 2022 alle 9.30 nell'aula magna dell'istituto Mario Rapisardi di Paternò. Interverranno il vescovo dieci reale e presidente regionale della Cesi, la conferenza episcopale siciliana nonché vicepresidente della CEI, conferenza episcopale italiana Monsignor Antonino Raspanti. Interverranno la professoressa Fiorella Baldo, il sindaco di Paternò Nino Naso e la professoressa Angela Rita Pistorio. Riparte questa sera alle 21.30 su Chuck Telesud il fatto, la nostra rubrica settimanale di approfondimento a cura della testata giornalistica Chuck News. Ospite della prima puntata del nuovo ciclo, il presidente del presidio partecipativo del patto di fiume Simeto, Davide Mascali, che parla del recap e in particolare della mappatura di comunità. Sentiamolo in estratto. Il progetto recap reti capacitanti nella valle del fiume Simeto, al centro della prima puntata del nuovo ciclo del fatto, il nostro approfondimento settimanale di attualità politica cultura. Ne abbiamo parlato con Davide Mascali, presidente del presidio partecipativo del patto di fiume Simeto, promotore del progetto che coinvolge 10 comuni della valle del Simeto, che diventeranno 11 con l'ingresso di catena nuova. E nell'ambito di recap partirà presto la mappatura di comunità 2.0. Mascali spiega di cosa si tratta. Come facciamo a rilanciare un territorio che ha delle fragilità e dei problemi enormi, se non ne conosciamo non soltanto i bisogni espressi evidentemente dai cittadini, dalle imprese, da chi il territorio lo vive, ma dall'altra parte magari dobbiamo anche conoscere le potenzialità, gli asset come si dice in gergo, cioè quei punti di forza che il territorio possiede e sui quali possiamo invece giocare come leve di rilancio dell'azione economica. La mappatura serve a questo, serve quindi a puntualmente ascoltare il territorio in maniera metodologicamente rigorosa naturalmente, che è poi anche un problema grave della politica dei nostri giorni. Ci poniamo il problema della politica che spesso ha difficoltà ad ascoltare davvero che cosa si agita nelle comunità, quali sono i bisogni ma anche quali sono le aspirazioni e i desideri. La mappatura grazie al supporto metodologico dell'Università della politica, prova proprio a far questo. Grazie a tutti.